Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi è la festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme. Lo so che questo video lo vedete lunedì. Avevo fatto anche un sondaggio su Instagram per decretare quant'era la festa della mamma. Visto che la maggior parte di voi avete detto l'8 maggio, però a casa mia siamo solitamente abituati a festeggiarla la seconda domenica di maggio. Vedo che molte persone la pensano come me e quindi auguri a tutte le mamme e soprattutto alla mia che oggi dedicherò questo video. Cosa faremo oggi ragazzi? Mi truccherò con dei trucchi che hanno praticamente l'iniziale di mia mamma. Mamma si chiama Anna, il cognome non lo dico, però inizia per la M. Comunque quindi i prodotti che hanno la lettera A e la lettera M. Io ne ho trovati alcuni, ce l'ho qui in questa busta e ve li farò vedere man mano. Poi magari vi racconterò qualcosa sul mamma. Correttore, utilizzo questo qui che è di appunto Makeup, quindi M, Revolution che si chiama Conceal & Define. Mi piace molto come viene come primer, mi piace molto di più come correttore perché essendo che è molto secco e io ho una palpebra oleosa ci sta più che bene. Ok, non trovo la spugna eccola qua e quindi lo andiamo a mettere un po' sopra. Che dire di mamma? Mamma è la persona più forte che io conosca e lei appunto è molto forte e poche volte l'ho vista veramente crollare a mamma, veramente poche poche volte e abbiamo un sacco di cose comune che dopo andrò a dirvi. Le palette occhi ne ho veramente di ogni, ho quelle di Makeup Revolution, una sola ne ho, ho quella di... quella di Mulac, però già avete visto nel video che ho fatto il trucco di Pasqua, ho quella di Amresi, anche lei l'avete vista, quindi ho deciso di utilizzare la Norvina appunto di Anastasia ed è bellissima, solo che è una storia triste perché mi è venuta, mi hanno portata rotta, infatti non so se si vede, è rotta. Io vi dico gli ombretti però non ve la faccio tanto vedere, questi sono gli ombretti, la palette è molto nelle mie corde e mi piace veramente tanto. E farò un trucco luminoso ma semplice perché mia mamma è una persona così, che ama le cose particolari ma semplici. Allora metto Love nella piega, vedete quanto spolverano poi? Sono molto polverosi, però devo dire che le palette di Anastasia sono ottime. Allora io e mamma abbiamo un sacco di cose in comune, tra quale carattere, siamo entrambe persone molto pazienti, persone che praticamente perdono veramente con pochissima difficoltà, vedete quanto si sfumano facilmente, poi dico che le palette di Anastasia non sono una garanzia, assolutamente sono una garanzia. E praticamente, che stavo dicendo? Sì, metto Fashion all'esterno, stiamo con il mio solito pennello questo qua di Cosmify. Praticamente siamo molto pazienti, cioè praticamente quando non ci sta bene una cosa lo diciamo in faccia e diciamo non ci sta bene questa cosa affinché di perdere anche un lavoretto, preferiamo però invece che lo diciamo apertamente che quella cosa a noi non piace è questo. Siamo infatti su questa cosa appreso molto da lei. Lei è un tipo molto scherzoso, amo molto scherzare, come anche io, io adoro scherzare però lo metto anche un po' all'interno assieme al colore Fashion e praticamente ci amiamo scherzare però quando ci arrabbiamo, ci arrabbiamo. Oddio, non è che il rapporto con mia mamma sia splendido, perché a volte anche noi litighiamo. metto anche, non so se mettere Wild Child, no, metto Celestial e lo metto proprio nel mezzo e quindi logicamente è come, non so se si vede, dopo vi faccio vedere comunque la luce naturale, questo bellissimo violettino, mi piace il viola come colore e praticamente ecco qua, forse un pochino si vede. Tondo questa palette fa fallout e dopo devo andarmi a togliere anche il fallout e comunque sì, mi piace molto questo trucco occhi, comunque faccio anche l'altra parte e comunque questo dovete sapere di me e mamma. Dopo vediamo, vediamo altre curiosità. Faccio anche l'altro occhio e tornerò da voi. Occhi fatti, ora metto il primer viso. Allora, come io ultimamente non sto mettendo più il primer viso, però ultimamente, visto che siamo verso la primavera estate, la mia pelle sta cacciando più sebo, è normale. Quindi userò questa mini size che è il Skin Base Visage di MAC, appunto M e praticamente lo metto un po' sul viso e poi lo spalmo. Allora, di fisico in mamma abbiamo anche molte similitudini. Siamo entrambe persone in carne, io prima lo ero, ma non più tanto. E praticamente siamo entrambe persone molto in carne, comunque molto leggero questo primer. Fa un buon odore, non tanto forte. E praticamente abbiamo la scoliosi in comune. Abbiamo il stesso capello, entrambe abbiamo un capello mosso. e entrambe abbiamo la stessa tipologia di occhi. Perché? Io però ce l'ho molto più diversi dei suoi. Però il mio occhio è strano perché tende, vedete, è un marrone che tende ad essere verde. E quando prendo molto sole diventa proprio verde prato, verde scuro. Oppure se io mi lascio la foto che ho fatto del Sailor Week, lì l'avevo fatta. E il mio viso era molto verde. Bagno la spugnetta con il mio fissativo spray, questo è di MAC. Va bene lo stesso. Per chi non vuole andare in bagno a usare l'acqua, può usare anche un fissativo. E mi piace quel fissativo. Quindi ho anche il fondotinta, appunto, che inizia con la M. E vi faccio vedere quale. Allora, fissativo. Fissativo. Fondotinta utilizzo questo qua, il Conceal & Define, sempre di Revolution, colorazione F2. Bene, ho parlato anche strambello di questo fondotinta. E praticamente vi stavo dicendo, ah sì, che... Infatti io ho preso la sua stessa scoliosi. Infatti l'abbiamo uguale, uguale. Abbiamo avuto lo stesso passaggio. Sei bellina perché mamma vuole andare a camminare anche di domenica. Oggi è domenica. Uffa. Perché stiamo andando a camminare. Non è che facciamo chissà quanti chilometri. Facciamo mezz'ora, un quarto d'ora. Però li dobbiamo fare. Io per la schiena e per la... diciamo, per dimagrire. Lei perché soffre dolore ai piedi e deve andare. Quindi ci mettiamo d'accordo, tutte e due, però andiamo tipo nelle zone di campagna, queste cose qua. E... e andiamo a camminare. E... cosa stavo dicendo? Infatti era scoliosi. Mi deve sempre interrompere. Ah, mamma. Comunque... sì, abbiamo lo stesso... abbiamo lo scoliosi entrambe. Infatti è una cosa che ho ereditato da lei. Ho ereditato il suo stesso neo dietro alla schiena. Infatti abbiamo un neo grande entrambe. Lei è molto più grande, però. Il mio è più piccolino, però abbiamo lo stesso neo. In realtà questo neo ce l'ha un po' anche i... cioè le nipoti di mamma. Cioè io e i miei cugini abbiamo anche noi questo... cioè abbiamo tutte quante noi questo neo. E mi ha lasciato una voglia di non so cosa... penso di chi sia di caffè in mezzo alle cosce. Brava mamma. Mi lascia le voglie in luoghi nascosti. Come correttore questo qua di Astra. E si chiama Longsday. Comunque è steso il fondotinta. E questo è appunto Astra. Che è di Astra. Faccio tanti cuoricini. Perché oggi è la casa mamma. Quindi faccio tutto a cuoricino. E poi andiamo a sfumare. La mia spugnata mi chiama Annalisa. Comunque la devo anche cambiare. Perché è diventata vecchiotta. Anche se non è male. Io queste qui mi ci trovo abbastanza bene. Le ho comprate nella mia profumeria un po' di mesetti fa. Ultimamente io non mi sto comprando più nulla. Perché è sendo la profumeria chiusa. Dato il... Come si chiama? Il covid. Che vogliamo fare? Un po' di pazienza. Oddio si è scaricato anche il telefono. Mi metto anche un attimo sotto. Non so se sta caricando. Fatemi controllare. Ok ho messo a caricare il telefono. Quindi si era quasi scaricato. Sarebbe al 2%. L'ho preso giusto in tempo. Allora come cipria. Uso l'All About di Essence. Vi faccio vedere questa qui. E praticamente faccio un po' di... Sotto l'occhiaio. Ok si è rotto anche il coperchio. Ma ragazzi si già si capiva. Che è preso una bottarella sta cipria. Vabbè. Io adoro Essence. Solo che ha un po' di pack cheap. Ma per un prodotto di 5 euro. Non è che... Anzi meno di 5. Questa cosa tipo 3-4 euro. o 2-3 euro. No. 3-4 euro. Cosa pretendo. Metto in fungo il pennello. E poi ci vediamo per le polvere. Riuscita a chiuderla. Numero 1. Prendo il quad di Astra. Vi faccio vedere. Questa. Quindi utilizzeremo per fare blush. con un po' di terra. E poi potrei anche così utilizzarlo. No. Non vai come illuminante. Usa un altro prodotto. Quindi uso solo la terra di questo brand. Mendo il pennello. Che ho poggiato tutto. Tirò a letto. In modo che sto più comoda. Sapendo qualche altra curiosità che vi posso dire su mamma. Allora mamma. È il segno zodiacale leone. Infatti. Mamma. C'è un caratterino. Abbastanza. Pesante. Vabbè. Io non è che sia molto facile come figlia. Cioè. Noi figli non siamo facili. Abbiamo un nostro caratterino. Anche noi ragazzi. E lei. Logicamente. Se ci deve fare una lamanzina. Ce la fa. Come blush. Utilizzo questo qua. Il My Melon. Cioè. Il Melon Dollar Baby. Di L'Oreal. Quindi anch'esso M. Riescirò ad aprirlo. Ok. E praticamente. Lei appunto. Ci sono anche giorni che io e lei litighiamo. Ma litighiamo. Pesante. Pesante perché io sono una figlia che ha un carattere mio. Lei ha un carattere suo. Ci scontriamo parecchie parecchie volte. Però molte cose la pensiamo lo stesso modo. Siamo molto simili. E proprio per questa similitudine a volte ci porta anche a litigare. Metto gli illuminanti. Illuminanti sempre di Revolution. Utilizzo la Sofix. E quindi. Utilizzerò lei. Vedo se c'è un pennello. Sì. Ho questo qua di Cosmify. Quindi di Basic Gaia. E utilizzo. Non lo so. Penso questo color qua. Il secondo di questa cialda. Lo metto qua. E quindi si scontriamo parecchie volte. Ed è normale. Sennò non saremmo qui a fare chissà cosa. Siamo un pochino di belli. E mamma. E ma è normale. Se io non litigo con lei. Con chi dovrà litigare. La mia doccia. Cosetti spray di MAC. Posta. Ora completiamo. Trucco occhi sotto. Ok. Trucco occhi sotto. Prendo sempre la norvina. E non lo so che colore prendo. Penso che prendo sempre Love. E ce lo butto sotto. Anzi no. Prendo volatile. Prendo questo velo. Quest'altra parte del pennello. E ce lo butto proprio sotto. Toggo il fallout. E io lo metto proprio sotto. Sotto qua. Non lo so matite. Perché le matite di quel. Del brand. Non ce l'ho. C'è delle nizzele di mamma. E dopo faremo anche un'eccezione. Con il mascara. Perché neanche. Lo uso anche un po' per riempire le sopracciglia. Perché non ho colore. Proprio. Non ho un pennello. Proprio apposito. Per fare. Diciamo. Non ho proprio un prodotto con l'iniziale A e M. Perché io so prodotti stranieri. Curiosità di mamma. Che lei è nata il 10 agosto. E visto che questo qui. È il 010 di Popa. Useremo lui. In realtà non va bene con l'iniziale. Però è un'eccezione. Ok. Cosa ci rimane fare? Le labbra. Penso che ho fatto quasi tutti i passaggi. Vediamo un po'. Sì. Le labbra. Tendo i miei due prodotti. E vediamo un po' cosa mi dobbiamo mettere. Ho deciso di mettere. Move A Me del Clio Makeup Shop. Comprato appunto nel pop-up di Napa. Ok. Ho messo anche questo gloss. E questo è l'effetto finale. Ora vi faccio vedere. Mi faccio vedere. Ho i capelli aggiustati. Prima avevo un mollettone che sembrava quelle zitellone. E praticamente è questo il trucco. Devo dire che nel complesso mi piace veramente tanto tutto. Molto bello l'ombretto e il rossetto mi piace veramente tanto. Gloss è molto carino. Quindi non so dove l'hanno preso perché mi è stato regalato. Sì, mi piace tutto. Devo dire che mi sono divertita a fare il suo video. Anzi, se volete vedere video del genere dove mi trucco con le iniziali di mio fratello, di mio padre o le mie. Fatemelo sapere giù nei commenti. Io mi vedo la luce naturale. Mi sono resa conto che non avevo concluso l'argomento occhi. In realtà io a mamma volevo dire che abbiamo gli occhi verdi. Infatti anche qui si vede una luce naturale. E praticamente ci porta a irritare e a lacrimare. Infatti una volta che ero andata in piscina, proprio perché io stavo al sole, i miei occhi mi bruciavano molto e facevano sempre così. Mi sfregavo perché mi facevano veramente male. E questa cosa l'ho presa da lei. Comunque spero che vi piaccia il mio trucco. Fatemi sapere se avete provato questi prodottini. Io vi consiglio sempre le palettes di Anastasia. Io penso che Makeup Revolution sia un buon brand che ha parecchi prodotti abbastanza interessanti. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao! E buona festa della mamma ancora!